Entrambi hanno deciso di rispondere all'interrogatorio di garanzia forestieri Gugliandolo assistiti rispettivamente dagli avvocati Salvatore Silvestro e Piero Luccisano si sono trattenuti col jeep per meno di un'ora. Gugliandolo ha respinto ogni accusa di aver ingaggiato una corsa con forestieri sulla via Garibaldi così come invece si evince dall'ordinanza e per la richiesta di riesame punterà soprattutto sulle analisi delle immagini sequestrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona che lo immortalano decelerare prima dell'impatto tra l'Audi TT e la Panda di Lorena. Ad inchiodarlo e a parlare di corsa tra auto è stata soprattutto una testimonianza raccolta dagli investigatori mentre un'altra meno dettagliata negava l'ipotesi di gara tra le due auto. Secondo il legale di Gugliandolo il ragazzo sarebbe poi rimasto sul posto sino all'arrivo dell'ambulanza e sarebbe andato via solo in un successivo momento. Foresteri ha invece messo l'alta velocità e il passaggio con Rosso al semaforo respingendo anche lui la contestazione di corsa non autorizzata.